Salve ragazze e benvenute sul set siete qui per pubblicizzare i tipici prodotti alimentari italiani non sarete sole con voi sul set ci sarà uno degli chef più bravi d'Italia Simone Ruggiati ciao Simone ben arrivato grazie ciao ragazze buongiorno siete pronte? Sì e vai ok hai fatto tante cose uguale prendi un rischio di fare delle robe completamente diverso magari frontale con le gambe aperte no di più troppo la faccia però brava ero nervosa non lo so come sono andata mi sento incapace no cara scusa è come l'altra volta che ho fatto la paura che sei uscita così e poi sei stata una delle migliori è la tua sensazione basta no non è vero non sono capace non sono capace di muo di vedere come il mio corpo non sono capace di fare espressione non sono capace di vedere ma non è assolutamente vero non diciamoci c***a sei tu sono vero e nervosa come un mondo sensuale bella così bella questa è perfetta questa è la statua di libertà italiana no? si fai morire questo Simone così no? ok brava più esagerato possibile addirittura bravissima brava grazie brava grazie bello bellissimo poi magari domani vado in sfida ecco la ricorda di non troppo di spalle foro stella brava brava dai così però non appoggiarti brava tocca a me sento di si avvicinare la mia moglie lo voglio vedere vivere questo pomodoro no non posare ogni scatto sopra le righe una folia devi fare gli occhi molto seducenti dai brava grazie ah ma non piace neanche il pomodoro beautiful beautiful si il godimento con la cipolla vai ha 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 brava carolini io io dai carolini dai carolini dai carolini usi la tua immaginazione one two three vado e noi che vediamo se vuoi fare così buttati però se vuoi fare così buttati fare realmente non è volgarità non è volgarità e tutta questa sensualità brasiliana che c'hai dentro dai brava devi usare queste sensualità che dentro di te ma più sesso di questo che cosa mi dovevo mettere a fare per l'amor di dio che ho bagiato i maccheroni ho messo i maccheroni in bocca ho fatto un sacco di cose e poi se non sono contenti loro me le f*****e proprio e lo minacci o lo fiduci? lo minaccio deve essere una per me più forte questo un po' sembra un deodorante un po' meglio per un cibo no? e voilà eccola la super italiana ok bravissima grazie ciao